Siamo parlando del gioco Salve a tutti i let's player Il mio nome è Unfergamer35 E oggi iniziamo una nuova serie Iniziamo una serie su IGRIFFIN Allora ragazzi, sto facendo uscire questo video Starendo questo video adesso E per un semplice motivo Per il quale E per un semplice motivo Per il fatto che stasera alle 9 Le riuscirò a uscire il video Quindi ve lo faccio uscire Non ho giocato questo Siamo ancora qui, eh? Ho una responsabilità per i miei PTV viewers, Brian E niente dice che devi vedere la TV Come un 5 day non star Mr. Belvedere marathon Raga, ho paura che su questo emulator Non funzioni come si deve il gioco Detirò magari Di spostarmi su 1.0.1 Nel prossimo episodio Vedrò Premix per questo tempo Ah, quindi questo è un platform Allora, ragazzi, io vi ripeto Questo gioco non l'ho mai fatto Per me è nuovo nuovo, eh Ricordo, questo gioco Ce l'aveva un mio amico per la Playstation 2 Ce l'aveva E non l'ho mai provato Mai E' la prima volta, ragazzi E' la prima volta Quindi per me i comandi sono pure nuovi Inoltre perché se la stesse chiedendo Sto usando il joystick della 360 Che è più comodo su PSP Poi se volete giocare proprio con la PSP Avete bisogno di un altro programma Ok, raga il gioco comunque in italiano, è vero dico Italiano Io cerco di prendere il più cose possibili Non sembra male come gioco Pensi per potenziare l'arma, c'era scritto Non ho visto bene Però penso di sì Qui non c'è più niente Ok, raccogli tutti i potenziamenti Ehm, non so dove sono Vai, qua c'è un altro listo che non ho preso Ti vuoi, ragazzi, alcuni non so manco dove sono Non so Non so Quindi per me è pure un Un mezzo casino Ehm 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 Accom gli venti, per potenziare Iniziamo bene Andiamo Raga, ne ho trovati altri due Dovremmo averli tutti, adesso No, 19 su 20 Ah, però comunque ci ha aperto la porta Anche se non li ho presi tutti Ah, qui c'è il Brian Per lanciare il raggio per me Che forza Ok, ma che devo fare Cioè, questo gioco è comunque nuovo per me raga, ve lo ripeto, non ci ho mai giocato Cacchio No, no, riapri Esce dalla porta della cucina Non mi piace No, no, no Non mi piace Non mi piace Non mi piace Ok So veramente in difficoltà raga, perché Questo gioco mi è nuovo E quindi Che cacchio No, no No Ma, ma, ma Ma, ma, ma Mr. Hoover's come to visit Lois, questo non è divertente Lois, questo non è divertente Non è vero Non è vero Non è vero Ah, ok Raga Raga ho fatto completamente a casa Ho fatto Raga ho fatto Raga mi sembra di sta giocare alla famiglia griffinger e ritorno al multi universo raga Diciamo E anche questo è male Ma dai Ma se vuole il sienso potrà lograre un pulito grosso raga Altro che jimson Altro che Simpson ragazzi Il fatto che dovremmo giocare anche con tutti i personaggi Dovremo a compito con Brian Con tantissimi personaggi Devo arrivare ad affrontare Cosa o Bertam sul tetto Tetto del garage Porco cane Che casino ragazzi Gioco un grande macello Muovi il mirino per inchiodere l'anello E potenzia la tua pistola a raggi Va bene A caso ho fatto raga Ho fatto completamente a caso Non mi chiedete Io vi ho fatto che sia stato Completamente una cosa a caso Spacchiamo tutto perchè c'è sempre un po' di roba Ma voi spiegatemi come raggiungo Come lo raggiungo lassù Fronta Bertram sul tetto del garage Tu spiegami come ci arrivo sul tetto del garage Prima Ok raga non mi chiedete come ho fatto Ho attivato Ho attivato in qualche modo il gancio Raga a livello di comandi Mi ricorda Questo gioco mi ricorda molto Batman Mi ricorda Del fatto di planare Usare il gancho per Per muovermi Ok siamo arrivati Bravo Steve Ehi Ehi Stai a guarda Ehi Se è Meg o qualche tipo di squirro E' un po' di Mi prenderò La mia scuola E' un po' di F*** Ti triccio Per distruggere Il tuo tuo Settile E' un po' di Ora posso Procedere Unimpto Con il mio Pianco Va bene. Io, raga, l'unico gioco di Griffin che conoscevo era proprio quello ritorno al multi-universo. Però la morte. Ok. Triangolo. L'infermina è avvertita ai guardi e falla tracere. Ah, adoro sti cosi. L'infermina è avvertita. L'infermina è avvertita. L'infermina è avvertita. L'infermina è avvertita ai guardi e falla tracere. L'infermina è avvertita ai guardi. L'infermina è avvertita ai guardi e falla tracere. 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 E' avvertita ai guardi e falla tracere. Sfrutto dei muri. no e qui per me ok mi sono allenato solo sei morto ultimo punto di controllo sfrutto il morire frattante per non è mannaggia quando mai mi fa finire di leggere ve lo devo dire raga per la prima volta che gioco mi sto cavando male ok mo spiegatemi come cacchio disattivare sto cazzarola di laser tipo tipo riuscire a far colpire tipo tipo fare così guardate ahhh e avevo ragione altro che simpson ragazzi io penso che appena finito il gioco di simpson ragazzi questa serie la passerò alla serie mattutina oppure la lascio come serie serale ok ok ragazzi sto facendo veramente il macello su sto gioco sto veramente a fa' qua devo trovare un input preciso per riuscire a colpire l'allarme un input precisa ancora no un po' più in la ma no carne da questo gioco raga devi avere mira devi avere questo gioco sto gioco se non hai mira vaffa' non c'è che colpo secco non c'è che colpo secco sono riuscito a spaccarlo ragazzi sono riuscito a spaccarlo non vi dico che casino che ho dovuto fare ma almeno ce l'abbiamo fatta pietta di farti fulminare facile oh è vero la morte a lui la morte non la puoi ammazzare beh c'è un più c'è col cavolo semplice ma sta cosa è davvero raga per i comandi tipo il volo per avere la planata o eh mi ricorda molto batman mi ricordo mi ricorda sto gioco ok siamo in avanti a un altro gioco platform di quelli veramente difficili ma anche molto belli vero e evito di farti fulminare e adesso veloce 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 prendi prendi sia che ci perdi un po' sia che ci ho perso un po' di vita raga però ne valeva la pena porco cane è un livello abbastanza difficile io poi cerco di recuperare più cose possi- sì 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 non ho preso tutto bene bene un checkpoint prendi il coin oddio le infermieri sono più che altro le toste le più toste le più toste che poi nonostante tutto raga il gioco in italiano nonostante tutte le lingue in inglese potevano fare un piaggiore della lingua in italiano però vabbè dai che scemo ok raga ma le cose si fanno sempre più complicate oddio prendi il condensatore del microscopio preso ok vaffanisi ehi non si picchia un bambino ok andiamo avanti però ma ho trovato salvataggio mi 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 ma al posto di prendere lt primo rt ogni volta come cacchio lo spacco quanto pare da su devo arrivarci beh raggiungi la postazione monitoraggio voglio assort cioè come ci arrivo scusatemi non è che devo mandare però non ci arrivo ragazzi questo è il problema che cazzo oddio questo gioco mi sta inquietando che devo fare con questi ok raga in qualche modo sono riuscito a farla uscire quella cretina dell'infermiera ce l'abbiamo fatta c'è raga un gioco più strano di questo non esiste guardate tutte signore incinta minchia ok bravo siamo quasi a 100 un gioco Grazie a tutti! Corgi, chiaro! Spero che ti salverò! Ancora? Ma quanto è lungo questo livello? Il mio ray-gun si salva più accuratamente! Io a volte dove ve le tiro fuori certe serie... Non lo so, non ne ho la minima idea, raga! Nooo! Ok, raga, ce l'ho fatta! Bella adesso! Nooo! 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 Non mi chiedete come ho fatto... Perché non ne ho la minima idea... Non so quanto manchi davvero alla fine del gioco... Nooo! Del gioco del livello! Prendi la bobina della... Se mi rendo conto fra poco, raga, mi fermo! Se mi rendo conto che il livello è abbastanza lungo, mi fermo! Alla prossima! Cosa! Oh my god, female X-rays! Ahhhh! May anyone have a towel? Hey nurse, can you examine this for low? Oh god, I'd rather die! Heh, heh, are you the hand nurse? Ugh! Pervert foodie! Hey, wanna play doctor? Stay away from me! Oh, no, no! Il mio... Eh, 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 questo sangue ha un mifo! Che sceme! Vediamo, ce ne sono altre in là! Ah, dammit! Un canale è aperto! Cosa c'è un altro personaggio? Alguien si estendere! Prendi la bobbina per la macchina! Penso di aver capito, ok... Dov'è quel cretino? Cioè... Quel cavolo che ho capito! Cioè... 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 Devo spegnere la macchina! Devo spegnere la macchina! Devo! Nella risonanza magnetica! Oh! Cioè... Ok, raga, forza che abbiamo finito il livello! Cioè... Cioè... Va bene! Ok, ragazzi, per questo livello abbiamo finito! Io direi che... Posso chiudere... Posso chiudere quel video! Nel prossimo episodio faremo il livello di Brian! Io vi saluto e ci vediamo alla prossima! Cioè... 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 Cioè...